Il secondo. Asso, come si sente la famiglia? Come si sente? Come si sente? Does il Rai intendere tornare in ogni caso? No, questo è il microfonso. Ma è quello che siamo a dare. Mi bello il pardon? È quello che siamo a dare. Per decidere questo? Passa, microfonso! Chiede gli ancora la conferenza stata, per favore. Se c'è. Se gli chiedi, per favore, che ora c'è, se c'è. Scusate, non posso parlare con te, ma devi farmi passare. Grazie. Scusate per tutti. La famiglia è in buon spirito? Sì, sempre. Quanto è la conferenza? Scusate. Scusate. Sono solo venuti questa mattina, ho bisogno. Sì, grazie. Scusate per te. Scusate per te. Scusate per te. Scusate. Scusate. In the afternoon... Grazie a tutti, grazie a tutti...